benvenuti a chi vuole essere radio italia il grande quiz musicale che fa impazzire gli italiani il concorrente di oggi è genovese e si chiama paolo che si soglu paolo che si soglu lei sa che in italia c'è una legge che permette di cambiarsi il cognome per rispetto a chi deve pronunciarlo comunque a proposito di cognomi il 27 maggio in piazza duomo a milano sul palco di radio italia live il concerto ci sarà un artista top di cui basta nominare il cognome per far partire la ola liga bue e la prima domanda del nostro quiz è proprio su di lui come si intitola il secondo singolo tratto da start l'ultimo grande album di liga bue a certe donne brillano b certe donne brindano c certe donne bramano d certe donne brucano e non è facile sono cose che le donne fanno abitualmente ma per questo le darò un aiutino guardi questo video no non qua il video certe donne brillano certe donne bastano certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no io mi butto io dico certe donne brillano e brilla anche la sua risposta esatta brano contenuto dell'album start di liga bue il dodicesimo disco di inediti della sua carriera il 14 giugno dallo stadio san nicola di bari liga bue partirà con lo start tour 2019 start tour un grande show nei principali stand in italia tutta l'onente la sapeva proprio a memoria sì 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 e l'ha studiata a casa l'ho studiata per tre mesi i giorni e notte con mia moglie cosa fa sua moglie e credo che stia parlando con l'avvocato forse ricordi ma sì che ti ricordi davvero come viene certe donne brillano certe donne bastano certe donne chiamano luciano ligabue una presenza straordinaria sul palco di radio italia live il concerto che potete seguire in diretta dalle 19 30 al 27 maggio su radio italia solo musica italiana radio italia tv real time e 9 posso salutare una persona cara sua moglie no no l'avvocato gianchetti mi raccomando giulio con sta roba degli alimenti yeah i i ho io maria